Echi Rossignani, abbiamo pensato di ripristinare la tradizione del Circo L'Amice della Lirica con le conferenze musicali. E quindi intitolato Echi Rossignani tra Musica e Parola, gli incontri del Circo L'Amice della Lirica Rossini o DV. Ci saranno cinque conversazioni che si svolgeranno nel mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Quindi sono cinque incontri. Alcuni si terranno all'auditorio Palazzo Antaldi. Con relatori di primordine a livello nazionale e a indagare diversi ambiti legati all'opera lirica, al teatro musicale incendere. Insomma da Plauto ai legami con l'ispirazione che ne trasse Rossini fino alla storia del teatro musicale, fino addirittura alle contaminazioni poi felliniane nel progetto Chircos del maestro Masini del Conservatorio di Pesaro. Diverse occasioni di approfondimento che saranno anche mensilmente, batteranno un po' anche il tempo dei primi cinque mesi della capitale italiana della cultura e permetteranno appunto di partire dal patrimonio come nel caso del fondo della collezione Albani dell'Oliveriana che costruisce anche proprio scrigni e tesori musicali anche molto antichi per raccontare quanto la musica è sempre stata protagonista oltre che di casa a Pesaro e come questo racconto può essere non solo raccontato ma anche eseguito nella contemporaneità e come a volte avviene.